A voi tutti ben ritrovati amici di Rete7, amici del nord ovest, marcia indietro del tempo, proprio per il primo maggio doveva aggiungere questa perturbazione, comunque è andata bene a Pasquetta, è andata bene per il 25 aprile, piogge anche di moderata intensità, nevicati tra l'altro sulle Alpi, cominceranno a cessare i fenomeni a partire da sud, quindi dalla Liguria, dai settori più occidentali della Lombardia, verso sera, però nella prima parte del giorno Ancora pioggia sparsi a tratte anche di moderata intensità, purtroppo appunto è giunta proprio questa perturbazione per il primo di maggio e poi insisterà ancora per mercoledì, per la giornata di mercoledì, temperature che sono tornate su valori diciamo autunnali o comunque di mezza stagione, valori più primaverili, un po' più consoni anche al periodo, forse anche troppo un po' più in basso rispetto alle medie, però il fatto sta che comunque le temperature E ce ne siamo accorti si sono abbassate in maniera decisa, io per ora ho concluso, cari amici, buon proseguimento di settimana, arrivederci